L'estrazione delle carriere su un nuovo palco. Sabato 15 giugno, la prima cerimonia ufficiale per la 145esima edizione della giostra del Saracino, vedrà così un'importante novità. È stato infatti rinnovato nella forma e scenografia il palco in Piazza della Libertà per l'atteso appuntamento con l'estrazione delle carriere, durante il quale i capitani pronunceranno il loro giuramento. La vecchia struttura pone ormai difficoltà per l'omologazione e così con il supporto di un'azienda aretina ne è stata acquistata un'altra che gli aretini potranno vedere nella serata di sabato. Nelle scorse ore poi un'altra attesa, novità, la consegna della lancia d'oro al quartiere vincitore avverrà in uno spazio della tribuna. Da sabato Arezzo si immergerà così completamente nel clima giostresco, mentre i quartieri andranno avanti con gli eventi della settimana del quartierista in Piazza Grande da domenica 16 a martedì 18 giugno dalle 20.30 alle 23.30 si svolgeranno le prove dei giostratori. Mercoledì 19 alle 21.30 in programma la simulazione di giostra, giovedì 20 alle 21.30 invece la prova generale dedicata alla memoria di Vittorio Farsetti, mentre venerdì 21 alle 11.30 in Piazza San Francesco si svolgerà in forma solenne la cerimonia della bollatura dei cavalli e l'investitura dei giostratori. Sabato 22 giugno infine la giostra di San Donato dedicata a Giorgio Vasari nei 450 anni dalla morte avvenuta nel 1574.